Amici del software libero open source, benvenuti o bentornati in questa 192esima puntata del podcast di Marcos Box e a commentare con voi come sempre le principali notizie del mondo del software libero open source della settimana appena trascorsa. Anche questa se mi seguite già su YouTube come potete vedere è una puntata video del podcast di Marcos Box quindi oltre ad ascoltare la mia sua dentevoce potete vedere il mio bel faccino mi sistemo anche i miei occhiali per essere più carino e potete vedere di volta in volta le notizie che vado a commentare le notizie prese ovviamente da Marcos Box se ancora non l'avete fatto vi invito a iscrivervi in numerosi modi cioè modi dovete iscrivervi subito mettete in pausa il podcast se mi state ascoltando su una piattaforma di podcasting andate su YouTube e iscrivetevi adesso al canale YouTube di Marcos Box mi trovate cercando Marcos Box, quello del parco, Marco Gianni insomma tanti alias per una sola persona e mettete tanti mi piace, condividete, sapete che cosa dicono i YouTuber in questi casi perché? Perché sul canale YouTube di Marcos Box sotto a pubblicare e ripubblicare le puntate del podcast di Marcos Box trovate anche una serie di video approfondimenti trovate recensioni di distribuzioni di software e anche di prodotti hardware quanto mi capita quindi iscrivetevi, corretevi a iscrivervi numerosi e questa puntata, questa 192esima puntata di Marcos Box sarà dedicata principalmente alla seconda versione alfa di Cosmic il desktop environment di System76 e sarà dedicata anche nella seconda parte a commentare alcuni problemi di sicurezza che sono emersi nel corso dell'ultima settimana e torneremo anche a parlare nuovamente di Pavel Durov delle ultime modifiche che Pavel Durov ha introdotto in Telegram per, diciamo così, avere un trattamento di favore con le autorità francesi che li hanno indagato ma apriamo la puntata, andiamo con ordine, andiamo a vedere le notizie prima, notizia di questa puntata è una notizia che farà felici moltissimi di voi all'ascolto ovvero la notizia dell'annuncio da parte di Arch Linux di una collaborazione con Valve Valve la sapete che cos'è quella software house quella casa di sviluppo di videogiochi famosa per Half-Life famosa per Steam famosa per SteamOS che è il sistema operativo basato su Linux che equipaggia la Steam Deck che è la console portatile di Valve una console portatile che ha avuto un enorme successo tra i pinguini di mezzo mondo e non solo perché anche utenti Windows si sono ritrovati tra le mani di questa console e stanno giocando attualmente a titoli triplorama ma anche a altri tipi di giochi perché c'è una vastità cioè il catalogo è sterminato quello presente su Steam e stanno giocando inconsapevolmente su Linux quindi siete tutti quanti Linuxiani voi che giocate con la Steam Deck siete come noi quasi perché voi siete un po' inconsapevoli comunque perché parliamo di dicevamo, torniamo la notizia perché parliamo di questa notizia è che è una notizia molto importante perché sulle mail list di Arch Linux è stata pubblicata questo annuncio di collaborazione tra Valve e Arch Linux Valve si impegna a foraggiare due progetti critici per lo sviluppo della distribuzione per Arch Linux e che quindi Arch Linux beneficerà molto di questi contributi perché sono contributi a cose critiche cose che portano io tante risorse sia in economiche che in termini di programmatore e quant'altro Valve contribuirà a supportare l'infrastruttura di servizi di complicazione e anche sulla enclave di firma sicura quindi Valve restituisce quel che ha preso da Linux, da Arch Linux e lo sta facendo nel modo corretto io non vedo l'ora di vedere quali saranno i prossimi annunci di Valve in tal senso perché sta anche contribuendo all'ottimizzazione dei giochi su Linux sta contribuendo, contribuirà anche a sviluppare un protocollo per il gaming cioè sta facendo tanta, tanta, tanta roba tanti investimenti brava, brava a Valve e passiamo adesso a una notizia riguardante il rilascio della nuova versione di Gnome che è passato un po' in sordina è avvenuto a metà settembre è un rilascio di Gnome che non è che chissà che cosa ha introdotto di importante dicevo c'è stato il rilascio di Gnome 47 nomi in codice Denver perché Denver? perché nelle ultime versioni di Gnome vanno a prendere come nome in codice delle versioni di Gnome quella della città precedente nella quale hanno effettuato i soliti meeting che fanno i soliti incontri che si vedono tra di loro programmaturi vabbè quali sono le novità di questa nuova versione di Gnome? la prima novità riguarda i colori di accento perché adesso anche su Gnome troviamo i colori accentati questa nuova funzione, questa nuova opzione consente la personalizzazione del colore e dell'accento quindi togliamo il blu esistente possiamo mettere, che ne so, il rosso, il giallino, l'ocra è un ocra quello, non so, l'arancione insomma, hanno tanti colorini interessanti pre-impostati qui, se mi seguite su YouTube vi faccio vedere anche un video che vi fa vedere come funziona il cambio di accenti che è immediato e va a aumentare le possibilità di personalizzazione offerte da Gnome altri desktop environment ormai lo fanno è diventata una cosa che c'è un desktop environment devi avere una cosa del genere il cambio di accenti quindi è diventata la prassi e anche Gnome finalmente si adegua ci sono poi miglioramenti per quanto riguarda il supporto per schermi di piccole dimensioni l'introduzione del supporto per la codifica hardware sulle GPU in tele e MD durante la registrazione dello schermo un rendering più veloce e preciso delle GTK in particolare sui dispositivi quelli più datati sessioni desktop molto persistenti finestre di dialogo con un nuovo stile tante altre cosine qua e là è stata migliorata soprattutto anche l'applicazione Files quindi File Manager con alcune novità interessanti qui vi faccio una rapida carrellata sulle pagine di Marcosbox andate via a leggere l'articolo completo che ho pubblicato ci sono state anche come vedo ottimizzazioni alle impostazioni per il mouse per l'accessibilità insomma tante cosine piccoline non è un grande rilascio questo quello di Gnome 47 però tante cosine piccoline che di sicuro faranno felici gli utenti di Gnome e faranno felici anche gli utenti di Ubuntu perché la prossima versione di Ubuntu sarà equipaggiata con Gnome 47 e giusto proprio qualche giorno dopo il rilascio di questa versione stabile di Gnome c'è stato il rilascio della versione in beta di Ubuntu 24.10 nome in codice speriamo che ve lo dico al primo tentativo perché sono troppe re di mezzo Oracle Oriole mi devo concentrare quando lo leggo questa è la prossima regrese semestrale di Ubuntu quella intermedia di Stratale RTS che adesso è disponibile per i beta testing pubblico e viene rilasciata con Gnome 47 come vi dicevo con i kernel Linux 6.1 con GCC 14 ovviamente gli aggiornamenti per quanto riguarda i driver mese del parco software della distra oltre alla versione principale quindi con Ubuntu li troviamo anche aggiornati i driver sufficiale quindi troviamo la nuova versione beta di Ubuntu 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 il riascio della versione 2, della versione Alpha 2 di Cosmic, il desktop environment scritto in Rust, pensato per equipaggiare PopOS, esegupato da Sysse 70C, che però è ormai diventato il desktop environment più apprezzato degli ultimi anni, con un exploit, lo trovate su Fedora, è possibile installarlo su Fedora, è possibile installarlo su Pensus, è possibile installarlo su qualsiasi derivata di Arch Linux, a me piace, io lo sto utilizzando, sto utilizzando Cosmic su PopOS, ovviamente sulla distribuzione principale, dalla prima versione Alpha, e continuo a utilizzarlo giornalmente. Il rilascio della versione Alpha 2 di Cosmic non significa che di botto vienano rilasciati tutti gli aggiornamenti, semplicemente significa che è stata rilasciata la nuova ISO aggiornata di PopOS, quella ancora in sviluppo, quella, sì, basata su Ubuntu 24.04 LTS, quindi basata su una LTS, però, con Cosmic, che è un desktop environment che è ancora work in progress, quindi è stata rilasciata la nuova ISO, contenente gli ultimi parchetti fino al momento del rilascio della ISO. Se ovviamente avete installato, come me, la versione Alpha 1 di Cosmic, non dovete fare nient'altro che seguire gli aggiornamenti di sistema, che vi sono arrivate tutte queste novità, di cui vi parlo nell'articolo e nel video dedicato, perché ho fatto anche una video recensione che trovate sul canale YouTube di Marcosbox, diciamo, tutti questi aggiornamenti ve li siete goduti strada facendo. Per chi invece è caduto dal pero e non sa che cosa è Cosmic, ve lo dico subito in questa puntata del podcast, vi dico subito quali sono le novità di questa Alpha 2. La prima novità riguarda l'alimentazione a batteri, perché è stata introdotta la possibilità di avere il bilanciamento energetico, quindi se siete su un laptop molto utile, perché potete regolare il consumo e le prestazioni di sistema, potete monitorare anche i vostri device wireless, quindi potete avere lo stato della batteria, che ne so, del vostro mouse, della vostra tastiera, delle vostre cuffie, sono stati migliorati i settaggi per quanto riguarda le impostazioni audio, per la rete wireless, per i schermi, perché è stato aggiunto poi anche un'altra funzionalità che va a renderizzare l'applicazione X11, scusate, alla risoluzione nativa, ed è una cosa ottima per chi gioca, perché praticamente quando si utilizzano display e hdpi, abilitando questa opzione i giochi sfrutteranno la massima risoluzione. Ci sono poi novità per quanto riguarda la gestione data ora, nuova funzionalità per la gestione delle finestre e tante novità per quanto riguarda Cosmic Files. Vi ripeto, andatevi a leggere l'articolo sulle pagine di Marcosbox e soprattutto andatevi a vedere il video nel quale vi faccio vedere live tutte le novità di questa nuova versione. Complimenti, complimenti davvero al team di System76 per gli enormi lavori che sta facendo su Cosmic. Ah, ci tengo ancora a sottolineare un'altra cosa, stanno lavorando da quel che vedo anche molto bene perché stanno lavorando fin da subito al supporto per quanto riguarda gli strumenti di accessibilità, quindi screen reader e quant'altro, quindi bravissime perché lavorate, pensate anche a chi ha problemi visivi e quant'altro, quindi non state facendo qualcosa alla carona. Complimenti. E restando sempre a parlare di Cosmic, anche Luca ha voluto dire la sua su questa nuova versione di Cosmic, su questa seconda alfa di Cosmic e ha pubblicato un articolo sulle pagine di Marcosbox che appunto ci dice la sua che cosa gli piace e che cosa non gli piace di Cosmic. Andatevelo a leggere, come al solito per gli articoli di Luca, non vi dico niente perché dovete andare a leggere tutti e lasciarvi anche un commento. E sempre a firma di Luca c'è un articolo interessante, anzi una guida interessante che vi spiega come velocizzare Thunderbird. Thunderbird è un client di posta elettronica. Personalmente io non amo i client di posta elettronica perché per quanto riguarda le caselle mie principali preferisco utilizzare l'interfaccia web delle varie caselle di posta elettronica, però a lavoro. Io utilizzo Thunderbird, sono l'unico che in ufficio utilizza Thunderbird, tutti quanti utilizzano Outlook e poi dicono, no ma come a me questa cosa su Outlook non si può fare, a me questa altra cosa così non si può fare. Io gongo ogni volta e dico, ah ah, io con Thunderbird faccio questo e altro. Ah beh, me la tiro un po' perché sono quello nerd dell'ufficio. Comunque, Thunderbird ha qualche problema ogni tanto però di lentezza e in questo suo guida, in questo suo articolo Luca ci spiega come velocizzare l'esecuzione quindi con la pulizia delle mail, con la cancellazione di pubblicità, come compattare il database eccetera eccetera. Andatevi a leggere l'articolo. Tra l'altro è stato anche apprezzato perché è stato, si può dire, no come si dice su Mastodon, rimasto, ripubblicato e messo in evidenza dal profilo ufficiale di Thunderbird su Mastodon. Quindi complimenti a Luca per questo suo articolo. E cambiamo adesso l'argomento, passiamo alla seconda parte di questa puntata del podcast di Marcos Box parlando di notizie riguardanti la sicurezza. La prima notizia riguarda una violazione, no non è violazione, non lo devo dire violazione, riguarda il fatto che la rete Torre è stata infiltrata, è stata infiltrata dalle forze dell'ordine tedesche. Torre è uno strumento noto per garantire l'anonimato online ed è utilizzato per superare le censure, per proteggere la profesi degli utenti e chi più ne ha più ne metta. Tuttavia però recentemente in Germania sono riusciti a utilizzare delle file di sicurezza per poter analizzare il traffico su rete Torre e andare a monitorare quel che è stato fatto, quello che è stato fatto in maniera fraudolenta da parte del gruppo ransomware vanity locker. Le forze dell'ordine tedesche attraverso una tecnica chiamata timing analysis sono riuscite a identificare e monitorare dei server all'interno delle rete Torre, incluso appunto quello del gruppo ransomware vanity locker. di questa tecnica vi ho messo un link che vi spiega come funziona questa tecnica e come è stata utilizzata dalle forze dell'ordine tedesche. Praticamente questa tecnica permette di individuare un collegamento tra i nodi del network e le tradizionali connessioni a internet. Questa operazione ha dimostrato ancora una volta che l'anonimato offerto dal rete Torre può essere compromesso come tutti quanti i sistemi online. Perché non esiste, toglietevelo dalla testa, in termini informatici non esiste un sistema totalmente sicuro. Perché? Perché sì, perché qualsiasi protocollo voi introdurrete non è questione di se o non è sicuro, è questione di quando verrà compromesso, quando verrà trovata la falla, quando avremo la tecnica o la potenza di calcolo per poter hackerare quel tipo di sistema. Quindi sicurezza non esiste al mondo, la sicurezza viene offerta soltanto dalla morte, ma tutto il resto, e soprattutto in ambito informatico, non esiste in termini di sicurezza totale. Basti pensare anche, che ne so, vi ricordate qualche anno fa quel che c'è stato con quel caso in cui l'FBI aveva chiesto lo sblocco di un iPhone ad Apple, aveva detto, senti, mi devi sbloccare quest'iPhone di questo che mi sembra che era un terrorista. E Apple disse, oh, non ci posso fare niente perché non c'ho le chiavi di decriptazione. E si puì, diciamo, la coscienza davanti al pubblico dei suoi utenti, anche se fice la nomina al mondo di aziende che diceva di no all'FBI. Che poi, che cosa è successo? È successo che l'FBI è andata dalla società israeliana di turno, ha chiesto, senti, mi devi craccare l'iPhone, poi ha detto, ok, e ci ha craccato l'iPhone. Questa è l'ennesima dimostrazione di come la sicurezza assoluta, vi ripeto, non esiste, l'anonimato assoluto non esiste, è questione di volontà, è questione di quando si vuole fare una cosa che si riesce a fare. Quindi, toglietevelo dalla testa, eh, questo concetto. Io spesso sento anche, leggo anche di pinguini che dicono, io utilizzo questo perché sono anonimo 100%, io utilizzo questo, utilizzo questo, non esiste. Cioè, siete 90% protetti, 92% protetti, però ciò non toglie che da qui a qualche mese, anno, giorno, uscirà una falla, uscirà un mantello per aggirare con la sicurezza e potremmo essere anche noi tranquillamente spiati. Vabbè, comunque, il progetto Thor non è stato con le mani in mano al risposto, chiarendo che il browser Thor rimane comunque sicuro per la maggior parte degli utenti e ha invitato a mantenere sempre aggiornati i software per evitare i problemi di de-anonimizzazione. Andatevi a leggere, vi ripeto, sia l'indagine tedesca, sia la tecnica del timing analysis che anche la risposta del progetto Thor, sono tutte linkate nell'articolo perché sono cose che vanno approfondite. E torniamo a parlare di Pavel Durov, Pavel Durov, ma ne parlo in ogni puntata del podcast, Pavel Durov, che è il CEO fondatore di Telegram, che, come ben saprete, è stato arrestato in Francia, sono state fatte accuse nei suoi confronti per via di utilizzi lessici che sono stati fatti con Telegram e lui, indirettamente essendo il CEO è stato accusato di complicità e quant'altro, bla bla bla, lo sapete come funzionano queste cose. Pavel Durov nel corso degli ultimi settimane sta facendo una serie di concessioni proprio secondo me per alleggerire la sua situazione e qualche giorno fa ha annunciato alcuni cambiamenti che andranno a importare su... anzi, alcuni nuovi cambiamenti perché già la scorsa settimana ne hanno annunciati altri. Dicevo, va a annunciare altri cambiamenti che vanno incontro alle richieste dalle autorità preoccupate per gli utilizzi inappropriati di Telegram. Questa settimana ha annunciato alcune modifiche per quanto riguarda, innanzitutto, la ricerca. Perché la ricerca è stata abusata da persone che hanno violato i termini di servizio per vendere merci illegali. Che cosa hanno avuto nelle ultime settimane? Gli sviluppatori, i modellatori di Telegram hanno utilizzato l'intelligenza artificiale per rendere la ricerca su Telegram più sicura, andando a non rendere più accessibili quei contenuti, quelli dichiarati illegali. E Telegram stessa ha messo a disposizione un strumento che chiamate il search report, in modo tale che anche noi, se troviamo qualche contenuto pericoloso illegali, possiamo segnalarlo. Automaticamente provvederanno loro a fare pulizia. L'altra novità, invece, riguarda la modifica dei termini di servizio e di privacy policy di Telegram. E questa è una cosa più impattante. Praticamente adesso all'interno dei termini di servizio dei privacy policy di Telegram viene chiarito che gli indirizzi IP e i numeri di telefono di chi viola le regole possono essere comunicati all'autorità competenti su valida richiesta legale. Quindi significa che d'ora in poi, non soltanto per accuse gravi, ma anche per indagini penali in corso di qualsiasi autorità giudiziaria in qualsiasi parte del mondo, Telegram dovrà consegnare gli indirizzi IP e i numeri di telefono di chi viola le regole. Quindi, anche voi che state all'ascolto, che molti di voi dicono, no, Telegram è sicuro. Avete capito. Non è più sicuro. Anzi, di fatto non è mai stato sicuro Telegram al 100%, perché a meno che non utilizzavate le chat criptografate, quella 1 a 1, il traffico non veniva, non è su Telegram, non è criptografato lato client. Insomma, non avete la sicurezza che non vengano spiate. Perché per quanto riguarda i canali pubblici, le chat pubbliche, tutto è nelle mani di Telegram. Quindi siete sicuri? Perché Telegram vi dice che è sicuro, però, di fatto, non siete sicuri al 100%. Comunque, andatevi a leggere i termini di servizio giornalatica, privacy policy e fatemi sapere, lasciate un commento sulle pagine di Marcosbox. Io continuerò a seguire la vicenda. Sì, Telegram, perché ormai è diventata tipo un appuntamento fisso di ogni settimana. Ogni settimana c'è qualche aggiornamento. E cambiamo argomento. Passiamo a parlare di Firefox, che è stata denunciata, o non ci crederete bene, cioè non ci crederete mai, ma è stata denunciata Mozilla, è stata denunciata Firefox, da Noib. Noib, lo faccio vedere qui. È una ONG finanziata da donazioni con sede a Vienna, in Austria, che si occupa dell'applicazione delle leggi sulla protezione dei dati, in particolare il GDPR e la direttiva e-privacy. Quindi è composto da un team di esperti legali, informatici e quant'altro, poi niente, da tutta Europa e lavora per garantire il rispetto del diritto fondamentale alla privacy da parte del settore privato. Quindi, non è che questa denuncia è stata fatta da Pinco Padrino sul suo canale, sul suo blog, sul suo canale YouTube. È un'associazione che si occupa da tempo di queste cose e che appunto ha dalla sua esperti del settore. Quindi è una cosa che va presa in considerazione, in iniziere considerazione. Perché è stata denunciata Firefox? Perché è stata denunciata Mozilla? Perché Mozilla ha silenziosamente abilitato su Firefox una funzionalità chiamata Privacy Preserving Attribution. Secondo Noib, contrariamente al nome rassicurante, questa tecnologia permette a Firefox di tracciare il comportamento degli utenti sul web. In sostanza, praticamente, che cosa fa il browser? Va a fare lui il tracciamento, anziché farlo gli singoli siti. Sebbene questo è un miglioramento rispetto al tracciamento dei cookie, quello invasivo fatto dai vari siti, l'azienda non ha mai chiesto agli utenti se volessero o no attivare questa funzionalità. Perché vi è arrivata praticamente di default preattivata in un recente aggiornamento di Firefox. Mozilla sostiene da parte sua che lo sviluppo del Privacy Preserving Attribution va a migliorare la privacy degli utenti perché va a misurare le prestazioni degli annunci senza che i singoli web vanno poi a raccogliere questi dati personali. In realtà, a parte del tracciamento, viene ora fatto direttamente da Firefox. E sebbene ciò possa essere meno invasivo rispetto al tracciamento illimitato, che è ancora la norma negli Stati Uniti, perché noi in Europa, effettuatamente, abbiamo il GDPR, tanti complimenti all'Unione Europea per averlo introdotto, è una rottura di scatole questo cacchio di cookie, eccetera, eccetera, però ci tutela. Le leggi europee sono nettamente superiori a quelle presenti negli Stati Uniti. Vabbè, dicevo, in realtà questa opzione di tracciamento non sostituisce nemmeno i cookie, ma praticamente va ad aggiungere un modo alternativo, aggiuntivo per i siti web, di indirizzare la pubblicità. Quindi, di fatto, è un doppione, un tracciamento doppione, presente all'interno del browser. Nella denuncia presentata da Noib, viene chiesto l'autorità austriaca per la protezione dei dati, la DSB, anzi, no, i DSB, lo devo dire in Austria, vabbè, cosa dice in Austria con DSB? Non lo so, mettete nei commenti un vocale. Insomma, chiede di indagare sul comportamento di Mozilla e Mozilla, secondo la Noib, dovrebbe informare adeguatamente il denunciante e gli utenti delle sue attività di tracciamento dei dati e passare a un sistema opt-in, cioè praticamente non lo devo preattivare, ma deve essere l'utente che deve attivare questa funzione. Viene inoltre chiesto a Mozilla di cancellare tutti i dati trattati illegalmente. Seguirò la vicenda anche in questo caso, perché io sono un utente Firefox, sapete, mi vedete quando, quando, quando vedete le puntate del, le puntate dei video del podcast di Marcosbox, il 99% di robot sono sempre su Firefox, c'ho anche la maglietta di Firefox, qualche volta mi sembra che l'avete vista quella grigia con Firefox Gloves, che non mi ricordo come che cavo si aveva scritto, che a mia è stata gentilmente donata da Mozilla per aver contribuito al progetto. Mi ricordo in quel periodo che cos'era? Per le traduzioni, per i motori di traduzione, una cosa del genere. Quindi io sono un utente di Firefox, ho visto che sui social alcuni mi hanno tacciato di cromismo dopo aver pubblicato la notizia. In realtà io utilizzo Firefox, quindi non mi sento nemmeno chiamato in caso per questa cosa. Sì, utilizzo Chrome, per esempio lo utilizzo a lavoro, perché purtroppo ho notato che ultimamente Chrome gira meglio per quanto riguarda il gestionale che utilizzo a lavoro, però quando sto a caso io sto tranquillamente su Firefox, quindi a me, vedi che mi trate del cromista. Vabbè. Comunque, vi diciamo, seguirò la vicenda e vi terrò aggiornati. Ultima notizia di sicurezza, ultima notizia di questa puntata, riguarda una falla di una vulnerabilità di sicurezza grave scoperta in CUPS, il servizio che ci consente la stampa su Linux. Che cosa fa? Anzi, diciamo prima, andiamo a Cesare, che è di Cesare. È stata scoperta, ed è stato poi pubblicato sul suo sito internet, è stata scoperta da Simone Margariteri, un ricercatore specializzato in sicurezza, che sul suo sito internet ha pubblicato tutti i dettagli di questa vulnerabilità grave che affligge CUPS e che può consentire, che cosa? Che cosa fa? Consente a un aggressore remoto non autenticato di sostituire silenziosamente degli URL IPP delle stampanti esistenti, oppure di installarne nuove, con alcune URL dannosi, provocando quindi l'esecuzione di comandi arbitrali sul computer quando viene avviato un processo di stampa su questi computer. Va a intaccare CUPS, va a intaccare CUPS Browser, il pacchetto, che è presente su tutte e quante le distribuzioni Linux, a meno che non installate il server di stampa sulla vostra distribuzione, quindi voi utenti Arcelinox che fate le installazioni personalizzate. E quindi questo problema sia sulla maggior parte delle distribuzioni Linux, su alcuni sistemi BSD, su Oracle Linux e infine anche su Chrome OS, ma poi ne vedremo poi, perché di sicuro si scoprirà che sarà un problema che riguarderà anche altri sistemi fino alla fine. Vabbè, al momento della pubblicazione dell'articolo non esiste una patch, per questo problema di sicurezza, il consiglio è quello di rimuovere il servizio CUPS Browser, aggiornare le CUPS, oppure in alternativa bloccare tutto il traffico sulla porta UDP 631 che viene utilizzata per fare tutto questo casotto. Vi invito a leggere l'articolo pubblicato sulle pagine di Marcosbox perché trovate il link al sito di Simone Margheritari che vi spiega tutti i dettagli tecnici. Io non ve li cito perché, ovviamente, ce ne capisco una mazza, però se siete tecnici, se siete esperti, andategli a dare un'occhiata. E con questa ultima notizia si conclude qui questa 192esima puntata del podcast di Marcosbox, io vi ricordo, come sempre, che potete seguirmi sui principali social, Facebook, X, YouTube, Podcast, tutti quanti di pratica forma di podcasting, LinkedIn, Mastodon e Telegram, dove trovate un canale dedicato alle notizie, il canale dedicato al community Telegram di Marcosbox, si parla non soltanto di Linux, si può parlare di tutto. Trovate poi il canale Telegram dedicato alle offerte Amazon, nel quale vi trovate una serie di link, link affiliazioni, quelli di Amazon, sapete come funziona. Voi acquistate dal link che trovate sul canale delle offerte Amazon e Amazon mi darà una piccola percentuale. E vi invito anche, se volete, a supportarmi ulteriormente, perché io non sono uno di quelli che spammano link in continuazione con finte offerte, io pubblico solo se vedo un'offerta vera. Dicevo, se volete supportare Marcosbox, se siete su Telegram, se trovate qualche prodotto che vi generi link affiliazioni, contattatemi e ve lo fornisco. Volendo potete anche utilizzare l'apposito Tux che trovate sul sito, cliccate da sopra e vi si apre la pagina affiliazioni, oppure potete utilizzare, se siete più tecnici, il codice Marcosbox-21 per il link affiliazioni. Vi ricordo, inoltre, che potete abbonarvi o rinnovare la nostra VPN su NordVPN, perché in questo modo supporterete Marcosbox, perché su Marcosbox trovate il link affiliazioni, ve lo metto anche qui in basso nel video. Cliccandoci da sopra, troverete la migliore offerta del momento. Vediamo l'ultima offerta che c'è su NordVPN. Adesso abbiamo fino al 71% di sconto sui piani due anni, più tre mesi extra, quindi ottima offerta. Quindi vi ricordo, vi ripeto, se dovete rinnovare o acquistare la vostra VPN su NordVPN, di NordVPN, prendete il link affiliazioni di Marcosbox. Infine vi ricordo che potete acquistare computer dal sito della Geekom. Geekom produce mini-pc con prestazioni davvero interessanti. Anche alcuni di voi lettori hanno acquistato mini-pc della Geekom e lo utilizzano tutti i giorni, come Linux Machine, quindi potete usufruire di uno sconto del 15% se acquistate direttamente dal sito della Geekom utilizzando il mio codice sconto GKMarco15, che trovate pubblicizzato sulle pagine di Marcosbox. E con questo è tutto. Lunga vita e prosperità a tutti quanti. Ci rivediamo la prossima settimana con la prossima puntata del podcast di Marcosbox. Ciao ciao!